Era di venerdì, quel 17 ottobre 2014, quando scattarono i sigilli su una parte dell'edificio scolastico Denino Morandi di Sulmona per presunti lavori sbagliati post-sisma. Dopo sei anni è praticamente rotto fermo, meglio ancora tutto da rifare. Tanto ci è voluto per addivenire lo scorporo in due lotti del progetto, dopo il ricalcolo dell'economia a disposizione della provincia dell'Aquila per l'esecuzione dei lavori sulla storica scuola. Il progetto esecutivo per il lotto non sottoposto a sequestro arriverà entro novembre, si è detto, ma anche questo è un annuncio, l'ennesimo feedback, arrivato da Proveritorato alle opere pubbliche, soggetto attuatore per interventi sulla storica sede. Sei anni senza bandiere gara d'appalto, avviare i lavori. Una situazione surreale e paradossale che la provincia sta cercando di sbloccare con il consigliere Andrea Ramunno, che recentemente si è recato nella sede del Proveritorato, poi verificato nello stato dell'arte del progetto. Si spera quindi che questa sia davvero la volta buona per imboccare la via di casa. Dopo la delocalizzazione a Prato-La Peligna, che per carità rispecchia tutti i parametri della sicurezza e dei rapporti spazio-unità, ma l'istituzione storica va tutelata. Intanto a fine mese riprendere il processo pendente davanti al Tribunale dell'Aquila per falso e truffa ai danni dello Stato, scaturito dall'inchiesta dei magistrati aquilani su presunti lavori sbagliati post-sisma. In sette dovranno presentarsi davanti al giudice. Tra lavori e processo assoluto resta più o meno in stand-by o comunque in corso d'opera. Nel frattempo si è aperta la riflessione sulla tenuta dei corsi storici, come quello dei geometri, che ha visto solo sei iscritti alla classe prima associati a meccanica. Serve un cambio di approccio per trovare soluzioni rapide e definitive, mettendo da parte risentimenti e battaglie personali, al fine di restituire una vita, una continuità, a quelle aule storiche di Via d'Andrea, che hanno fatto crescere intere generazioni di professionisti, alcuni dei quali rappresentanti anche nelle istituzioni e non solo.